ora tu stessa musa divina figlia di zeus dovrai cantare il travaglio e i pensieri della fanciulla di colchide che dentro di me la mia mente ondeggia in uno sgomento senza parole se devo dire che fu per angoscia infelice d'amore o per terrore fatale che lasciò la terra dei colchi età nel palazzo assieme ai grandi della sua gente per tutta la notte tramava un inganno astuto contro gli eroi e nel suo cuore nutriva un'ira terribile per l'odiosa prova e pensava che tutto sarà compiuto non senza l'aiuto delle sue figlie era infuse nel cuore una paura penosa tremava come una cerbiatta veloce terrorizzata dall'abbaiare dei cani nel folto di un bosco profondo improvviso vide chiaro e capì che il suo aiuto non gli poteva restare nascosto e la sciagura era al colmo temeva le donne che sapevano tutto i suoi occhi furono pieni di fuoco le orecchie rombavano terribilmente spesso portò le mani alla gola spesso strappando ciocche di capelli piangeva in disparte dolore e là in quel giorno sarebbe morta contro il destino ingoiando il veleno e rendendo vani i progetti di era se nella sua angoscia la dea non l'avesse spinta a fuggire insieme ai figli di frisso allora nel petto si calmò il cuore inquieto tornata in se stessa vuotò il cofanetto e nascose i filtri nel seno baciò il letto baciò dentro e fuori i battenti accarezzò le pareti e con le mani strappò un lungo ricciolo e lo lasciò nella stanza per la madre ricordo della sua vita di vergine e già mette con voce convulsa questa lunga ciocca ti lascio al mio posto madre mia e me ne vado addio e si felice anche se vado tanto tanto lontano addio calciope addio a tutta la casa se il mare ti avesse sbranato straniero prima di arrivare alla terra dei colchi così disse e versava dagli occhi copiose lacrime come trascinata per una casa ricca una schiava di guerra che il destino ha appena strappato via dalla patria e ancora non ha avuto esperienza delle aspre fatiche non ha provato miseria e lavori servili si muove infelice sotto le dure mani della padrona così la splendida donna corse fuori dalla sua reggia davanti a lei cedettero da soli i battenti spalancandosi in dentro al rapido suono degli incantesimi correva a piedi nudi per le vie strette con la sinistra sollevava il peplo sugli occhi sopra le belle guance e la fronte e intanto la destra reggeva in alto un lembo di tunica andava rapida nel suo terrore per una strada oscura oltre le mura della grande città non la riconobbe nessuna delle sentinelle non si avvidero della sua corsa pensava di andare al campo sapeva bene le strade tante volte le aveva percorse cercando cadaveri ed erbe malefiche come usano fare le maghe ma il cuore batteva forte di tremore e terrore la vide correre levandosi appena dall'orizzonte la luna la dea titania e gioi con malizia e tra sé e sé disse queste parole io non soltanto ricerco l'antro di latmo io non soltanto brucio per il bel endimione io che spesso mi sono mossa per i tuoi astuti incantesimi nel pensiero d'amore perché tu cerebrassi i tuoi riti tranquilla nella notte oscura come ti piace ora anche tu hai parte in questa stessa sventura il dio del dolore ti ha dato giasone come tua pena ed angoscia va dunque e preparati a sopportare per quanto sapiente tu sia dolori infiniti così disse ma l'altra i piedi la portavano rapida in fretta liatamente giunse alle rive del fiume e vide sull'altra sponda splendere i due fuochi che nella gioia della vittoria gli eroi avevano acceso per tutta quanta la notte al di là del fiume nel buio con voce limpida e acuta chiamò il più giovane tra i quattro figli di frisso frontis ne riconobbe la voce lui e i fratelli e il figlio di esone i compagni stupirono muti quando capirono che era lei proprio lei tre volte gridò e tre volte per invito degli altri frontis rispose al richiamo e intanto gli eroi remavano in cerca di lei facendo forza sui remi non avevano ancora gettato le cime alla riva di fronte e dalla tolla subito giasone balzò a terra con rapido piede e assieme a lui saltarono argo e frontis figli di frisso la giovane donna abbracciò i loro ginocchi e disse queste parole salvatemi amici salvate me infelice e voi stessi da età tutto già stato scoperto e non c'è più rimedio presto presto fuggiamo sulla nave prima che monti i veloci cavalli io vi darò il vello d'oro addormentando il serpente custode ma tu straniero davanti ai compagni prendi gli dei a testimoni della promessa che hai fatto e non lasciare che io andando lontano sia per l'assenza dei miei disprezzata e delisa così disse afflitta ma era lieto il cuore di giasone subito dolcemente la rialzò dalle sue ginocchia e le fece coraggio e le parlò in questo modo mia cara sia testimone zeus olimpio custode dei giuramenti ed era la sposa di zeus la dea delle nozze che ti porterò nella mia casa come sposa legittima quando avremo fatto ritorno alla città di grecia così disse e mise la mano destra nella sua mano medea ordinò di condurre presto la nave al bosco sacro per poter prendere il vello durante la notte ingannando il volere dieta così disse e così fecero pieni di slancio la presero a bordo e si staccarono subito dalla riva era grande il frastuono del battito intenso dei remi lei slanciandosi indietro tendeva alla terra le mani disperata ma giasone le faceva coraggio la sosteneva nel suo dolore nell'ora in cui i cacciatori scacciano il sonno dagli occhi e fidando nei cani non dormono l'ultima parte di notte perché la luce dell'alba non cancelli colpendo la terra coi limpidi raggi le tracce e l'odore delle fiere selvagge in quell'ora medea e il figlio diesone sbarcarono in un luogo erboso che chiamano il letto del montone là per la prima volta piegò le ginocchia sfinite quando portava sul dorso il mineo frisso figlio del re atamante erano là vicine le fondamenta coperte di ceneri dell'altare che frisso innalzò a zeus patrono degli esuli e gli consacrò il vello d'oro obbedendo al comando di ermes che gli apparve benevolo qui per consiglio di argo li fece scendere per un sentiero giunsero al bosco sacro cercando la grande quercia dove era il vello simile a una nuvola che si fa rossa sotto i raggi infiammati del sole nascente ma già con gli occhi insonni li aveva visti il dragone al loro arrivo e tendeva verso di loro il collo lunghissimo soffiava terribilmente risuonava la riva del fiume e la sconfinata foresta ludivano i colchi anche quelli che vivevano molto lontano dalla terra titania di ea lungo il corso di lico e staccandosi dal fragoroso arasse riunisce le sue sacre correnti a quelle del fasi e correndo insieme sfociano insieme nel mare caucasio le donne a letto si svegliarono per lo spavento e piene d'angoscia abbracciarono i bimbi che dormivano sul loro seno anch'essi scossi dal sibilo e come in una foresta che brucia si volgono innumerevoli ardenti spire di fumo via via montando dal fondo l'una di seguito all'altra così il mostro scuoteva le sue enormi volute coperte di aride squame e mentre lui si allungava ecco che medea fu davanti ai suoi occhi e con voce soave invocò il sonno in aiuto il dio supremo che affascinasse la fiera e chiamò anche la resina notturna infernale che le fosse benevola e le concedesse l'impresa la seguiva atterrito il figlio di esone ed il serpente stregato dall'incantesimo scioglieva la lunga spina dalle spire nate dal suolo e allungava ai suoi infiniti anelli così come quando sul mare in bolaccia si rovescia un'onda scura muta senza frasduono ma tuttavia teneva alzata l'orribile testa borramoso di avvolgere entrambi nelle macelle mortali medea intinse un ramo di ginepro tagliato da poco nella mistura e sparse il filtro possente sopra i suoi occhi pronunciando le formule lo circondò l'odore del filtro e lo addormentò la bocca cadde poggiando a terra e gli anelli innumerevoli si distessero dietro nel folto della foresta obbedendo a medea giasone staccò dalla quercia il vello d'oro ed essa intanto immobile spargeva il suo filtro sopra il capo del mostro finché giasone ordinò di tornare alla nave e a quel punto lasciarono il bosco ombroso di ares come una fanciulla riceve sopra la veste la luce della luna piena che splende sul tetto della sua stanza e il suo cuore è lieto dell'incantevole lume così godeva il figlio di esone alzando il vello nelle sue mani sopra le bionde guance e sopra la fronte al baleno del vello venne un rossore come di fiamma grande come la pelle di una giovenca ad un anno o di un cervo quello che i cacciatori chiamano cerbiato così era il vello tutto ad oro e coperto di bioccoli pesante e mentre giasone avanzava la terra ai suoi piedi rifletteva passo su passo la luce andava portandolo ora sopra la spalla sinistra lasciandolo pendere fino ai piedi dall'alto del collo ora lo raccoglieva tra le mani temendo di incontrare un uomo un dio che glielo rubasse aurora si spandeva sul mondo quando arrivarono presso i compagni stupirono i giovani nel vedere il grande vello splendente simile al lampo di zeus e ognuno si slanciava a toccarlo a prenderlo in mano ma giasone li allontano tutti e vi gettò sopra un mantello nuovo sollevando medea la fece sedere a poppa e in mezzo a tutti disse queste parole non induciate più amici miei a tornare alla nostra patria l'impresa per cui osammo il viaggio angoscioso soffrendo pena e fatica l'impresa è bene compiuta grazie ai consigli di questa fanciulla io come essa desidera la porterò nella mia casa e sarà la mia sposa legittima ma voi proteggetela lei che è venuta in soccorso vostro e di tutta la grecia penso che presto eta verrà con il suo esercito a sbarrarci il cammino che porta dal fiume nel mare a turno seduti sui banchi fate forza sui remi e l'altra metà di voi protendendo gli scudi di cuoio a difesa delle frecce nemiche protegga la via del ritorno in mano nostra abbiamo i figli e la cara patria e i vecchi padri da noi dipende la grecia che sia umiliata o che riceva grandissimo onore disse e vestì le armi di guerra gli altri gettarono un grido immenso lui sguainò la spada e recise le cime di poppa poi si sedette armato di fianco alla donna e vicino ad anceo il pilota la nave correva spinta dai remi avevano fretta di portarla fuori del fiume intanto al superbo eta e a tutti i colchi era noto l'amore di medea e ciò che essa aveva compiuto si radunarono armati in assemblea ed erano tanti quante sono le onde del mare in tempesta agitato dal vento o quante sono le foglie che cadono in autunno e chi potrebbe contarle in folla immensa occuparono con grandi strida di guerra le rive del fiume eta sopra il suo carro spiccava fra tutti per i cavalli doni del sole e veloci come un soffio di vento nella mano sinistra teneva lo scudo rotondo nella mano destra una grande fiaccola la sua lunghissima lancia era lì accanto distesa in avanti ed assirto reggeva ai cavalli le redini ma già la nave spinta dai rematori robusti e dalla corrente del grande fiume solcava le onde del mare il re colpito dall'aspra sventura levò al cielo le braccia chiamando il sole e zeus a testimoni del male subito e rivolse a tutto il popolo gravi minacce se non avessero trovato sua figlia per terra sulle onde del mare e non gliel'avessero riportata a casa perché saziasse il suo animo punendola di tutto questo sapessero che sul loro capo ricadrebbe tutta la collera e la rovina così parlò e eta i colchi in quel giorno stesso misero in mare le navi e le armarono e quel giorno stesso presero il largo avresti detto che erano non una flotta ma un popolo enorme d'uccelli che volavano a stormo sul mare con grande strepito ma gli eroi il vento soffiava fortissimo per volere di era perché al più presto medea giungesse alla terra pelasga e portasse la rovina alla casa di pelia al terzo giorno all'alba legarono gli ormeggi di argo alle orive di paflagonia nei pressi del fiume alis là aveva imposto medea di sbarcare ed onorare con sacrifici ecate e ciò che ella fece apprestando la cerimonia mai nessuno lo sappia e il mio cuore non mi spinga a cantarlo ho ritegno a dirlo ma resta tuttora il santuario che gli eroi costruirono su quelle rive alla dea offerto alla vista delle generazioni future in quel momento giasone e gli altri compagni si ricordarono di fineo che aveva predetto un altro cammino al ritorno di ea ma a tutti loro era ignoto argo così parlò agli eroi ansiosi noi torneremo alla città di orcomeno per quella via che vi ha detto il profeta infallibile che avete incontrato è vero c'è un altro cammino quello che rivelano i sacerdoti nati in tebe tritonia non c'erano tutte le stelle che volgono in cielo il loro corso nessuno aveva sentito parlare del popolo sacro dei danai c'erano solo gli arcadi apidani gli arcadi che si dice siano ancora più antichi della luna e mangiavano ghiande sulle montagne sul paese pelasgo non regnavano gli illustri figli di deocalione ma già si dava il nome di ereia terra brumosa al fertilissimo egitto origine dei primi uomini e di tritone al grande fiume che la bagna tutta dalle cui acque fiorisce sempre il raccolto poiché mai non lo bagna la pioggia di zeus di là si racconta che un uomo percorse tutta l'europa e tutta l'asia fidando nella potenza e nella forza e nel coraggio del proprio esercito ed infinite città fondò nella marcia alcune ancora abitate altre no che moltissimo tempo è trascorso ma ea resta ancora oggi ben salda e restano i figli degli uomini che aveva installato colà per popolarla ed essi conservano le iscrizioni dei loro padri tavolette sopra le quali sono segnate le strade e i confini di mare e terra a beneficio di chi si mette in cammino c'è un fiume l'ultimo corno d'oceano largo profondo tanto che può navigarlo una nave da carico lo chiamano istro e lo segnano molto lontano per un tratto attraverso da solo quella immensa regione poiché le sue sorgenti mormonano al di là del soffio di borea lontano sui monti rifei ma quando percorre le terre abitate dai tracci o dagli sciti si divide in due bracci da un lato si getta nel mare orientale dall'altro attraversa il golfo profondo dove si insinua il mare trinacrio accanto al vostro paese seppure è vero che nel vostro paese sgorga il fiume a che lo così disse e la dea mandò loro un messaggio propizio per cui tutti insieme gridarono di seguire la strada indicata là dove stavano per andare comparve un solco di luce celeste e liettamente dopo aver lasciato in quel luogo il figlio di lico spiegarono al vento le vele e corsero il mare guardando i monti di paflagonia ma non doppiarono il capo carambi perché non cessarono i venti nello splendore del fuoco celeste finché non furono giunti alle grandi correnti del listro i colchi intanto alcuni cercandoli in vano lasciarono il ponto attraverso le rupi cianee altri si al fiume assirto che li guidava tagliò di lato e percorse per la foce bella e dunque giunsero prima oltre il braccio di terra entrando nel golfo estremo del mare ionio c'è un'isola infatti chiusa dalle acque del listro triangolare che ha nome peuce e nel suo lato più largo guarda la costa l'angolo è verso il fiume perciò le acque si dividono in due da una parte il nome è nareco dall'altra in basso la foce bella e in questa entrarono assirto e i colchi più rapidi degli eroi che passarono a largo oltre la punta dell'isola sugli umili prati i pastori lasciavano le ricche greggi atterriti come a vedere dei mostri che uscivano fuori dal mare meraviglioso prima non avevano visto mai altre navi non gli sciti misti ai traci non i siginni non i trauceni e neppure i sindi che vivono ora nella grande e deserta pianura attorno all'aurio quando ebbero oltrepassato il monte anguro e al di là dell'anguro la roccia del monte cauliaco là dove istro divide il suo corso e da due parti si getta nel mare e la pianura dell'aurio i colchi entrarono dentro il mare di crono e bloccarono tutti i varchi che non fuggissero ed essi dietro scesero il fiume ed arrivarono nelle isole brige sacre ed artemide in una di esse aveva il suo tempio ma per fuggire agli uomini di assirto gli eroi sbarcarono nell'altra quelle isole fra tutte quante le trascurarono per rispetto alla figlia di zeus mentre le altre gremite di colchi bloccavano le vie del mare e anche nelle coste vicine alle isole assirto aveva raccolto degli uomini fino al salangone e alla terra dei nesti qui in una battaglia luttuosa pochi contro moltissimi gli eroi sarebbero stati sconfitti ma strinsero un patto per evitare la guerra il vello d'oro apparteneva a loro saldamente e a buon diritto lo stesso etal aveva promesso se avessero superato la prova era loro preso in qualsiasi maniera contro il volere del re con l'inganno o agli occhi di tutti quanto a medea lì era tutto il conflitto sarebbe rimasta sola senza di loro presso la figlia di leto finché qualcuno dei re che hanno il potere di fare giustizia avesse deciso se deveva tornare alla casa del padre o alla ricca città del nobile orcomeno o seguire gli eroi e andare in terra di grecia ma quando medea ebbe pensato nella sua mente ogni cosa acuti dolori le scossero l'anima e non le davano respiro subito chiamò giasone senza compagni in un luogo segreto e guardandolo in viso e singhiozzando gli disse queste parole figlio di esone quale progetto avete tramato sopra di me la fortuna ti ha forse tolto memoria e non ti curi più di quanto dicevi una volta nella stretta necessità dove sono finiti i giuramenti in nome di zeus protettore dei supplici dove le dolci promesse per quelle ho lasciato la patria contro l'uso senza ritegno ho lasciato la gloria della mia casa e i genitori e tutto quello che mi era più caro e sono partita lontano sul mare con i malinconici alcioni a causa delle tue imprese perché tu compissi la prova in colume contro i tori e gli uomini nati dal suolo e anche il vello hai preso quando tutto è stato scoperto grazie alla mia follia e a tutte le donne ho portato vergogna per questo dico che ti seguirò in terra di grecia come tua figlia come tua sposa e sorella e tu dunque devi proteggermi con tutto il cuore e non lasciarmi sola senza di te a cercare non so che sovrano difendimi tu senz'altro restino salvi la giustizia e il diritto che entrambi abbiamo accettato oppure tagliami in mezzo la gola con la tua spada ma subito che per la mia passione io abbia il compenso dovuto sciagurato e se il re al quale affidate questo patto crudele mi assegnerà mio fratello come potrò io giungere davanti agli occhi del padre sì certo con molta gloria quale castigo quale tremenda sventura dovrò mai soffrire per ciò che ho fatto mentre tu avrai il ritorno che tanto desideri no non lo voglio la sposa di zeus la regina del mondo che tu vanti amica e di me un giorno dovrai ricordarti quando sarai sfinito dai mali e allora il tuo vello sparisca simile ai sogni nell'erebo e dalla tua patria presto le mie rinni ti scacceranno lo stesso che io ho sofferto per la tua crudeltà e ti dico che queste parole non cadranno nel vuoto poiché tu spietatamente hai violato una sacra promessa coi vostri patti non resterete a lungo tranquilli a schernirmi così disse e ribolliva di aspra collera e desiderava bruciare la nave e distruggere tutto quanto e cadere essa stessa nel fuoco il figlio di esone ebbe paura e le rispose così con dolci parole mia cara calmati neanche a me questo piace ma stiamo cercando di ritardare la guerra tanto è grande la nuve dei nostri nemici che ci circondano e vogliono te tutti quelli che vivono in questa terra sono pronti ad aiutare assirto a riportarti a tuo padre a casa come tu fossi una preda rapita se combattiamo avremmo una fine luttuosa e sarà anche un dolore più grande morendo lasciarti in mano loro però questo patto compie un inganno col quale noi lo trarremo a rovina le genti vicina non ci saranno più ostili per fare sul tuo conto cosa gradita ai colchi quando non ci sarà più il tuo fratello e tutore e neppure mi sottrarrò a combattere contro i colchi faccia faccia se non mi daranno libero passo così disse per addolcirla e lei rispose una parola tremenda rifletti è necessario dopo le orribili cose compiute pensarne un'altra ancora è necessario dopo le orribili cose compiute pensarne un'altra ancora già che sono stata accecata e per polere divino ho compiuto azioni colpevoli tu pensa a difenderti dalle lance dei colchi in battaglia lui sarò io a ingannarlo perché cada nelle tue mani trattalo come amico mandagli splendidi doni io cercherò di persuadere i suoi messi quando torneranno da lui che devo parlargli da solo a sola e se a te così piace non te lo impedisco uccidi e dopo attacca battaglia con le gente di colchide e insieme d'accordo ordirono un grande inganno contro assirto gli offrirono molti doni ospitali e tra essi anche la tunica sacra di sipile purpurea la tesserono un tempo le grazie per dioniso all'isola dia e dioniso ne fece dono più tardi al figlio toante e toante la lasciò a issipile e lei la diede a giasone splendido dono ospitale insieme a molti altri mai non avresti saziato il desiderio soave di vederla e toccarla con mano perché restava in essa un profumo immortale da quando aveva dormito il signore di nisa inebriato dal vino e dal nettere rendo stretto il bel corpo di arianna che aveva seguito teseo da knosso e l'eroe l'aveva lasciata nell'isola dia quando ebbe fatto il suo discorso ai messaggeri e gli ebbe convinti a farlo venire appena lei fosse giunta nel tempio secondo il patto e la notte avesse disteso le sue nere tenebre avrebbero insieme pensato un inganno così da prendere il grande vello d'oro e tornare alla casa di età a forza i figli di frisso l'avevano consegnata in preda a quegli stranieri dopo queste parole ingannevoli diffuse i filtri incantati nell'aria nel soffio dei venti filtri capaci da tirare una fiera da lontano dall'alto dei monti funesto amore grande sventura abominio degli uomini da te nascono le contese mortali i gemiti e i travagli e ancora si agitano infiniti dolori sui figli dei miei nemici vieni armato signore quale gettasti nell'animo di medea l'odiosa rovina in che modo diede ad assirto che si recava da lei una morte atroce questo adesso deve narrare il mio canto dopo che secondo i patti la lasciarono al tempio di artemide si divisero ed approdarono ognuno con la propria nave giasone si dispose in agguato attendendo assirto e poi i suoi compagni assirto ingannato dalle più atroci promesse s'affrettò ad attraversare il mare per nave e nella notte nel buio sbarcò sull'isola sacra andò solo di fronte alla sorella e prese a assaggiarla con le parole come fa un dolce bambino con un torrente che neppure gli uomini forti si arrischiano ad attraversare chiedendole si aveva pensato all'inganno per gli stranieri si accordarono l'uno con l'altra su tutti i punti e all'improvviso il figlio di esone balzò dallo scaltro agguato con in mano la spada nuda medea distorse subito gli occhi coprendosi con il velo per non vedere il fratello colpito ed ucciso giasone come fa il macellaio con un toro delle ampie corna colpì l'aveva espiato nei pressi del tempio di artemide che una volta costruirono in suo onore le genti brige le quali vivevano nella terra di fronte l'eroe cadde in ginocchio nel vestibolo e all'ultimo mentre esalava il respiro raccolse con ambo le mani il nero sangue della ferita e mentre lei si scherniva le arrossò il bianco velo ed il peplo ma con occhio acuto ed obliquo l'irinni spietata signora del mondo vide l'orrenda azione che i due avevano fatto l'eroe figlio di esone tagliò le estremità del cadavere leccò tre volte il sangue e tre volte sputò la macchia del sacrilegio come vuole il rito che gli omicidi espiglino la morte data con frode poi nascose sottoterra il morto tiepido ancora là dove ancora oggi giacciono fossa in mezzo ai popoli assirti gli altri intanto avevano visto la fiamma del fuoco che medea aveva levato in alto come segnale per farli venire e lanciarono la loro nave contro quella dei colchi e li uccisero come gli sparvieri uccidono gli stormi delle colombe oppure i selvaggi leoni piombati dentro le stalle un grosso greggio di pecore nessuno di quelli sfuggì alla morte come il fuoco assalirono l'intero stuolo e lo massacrarono giassone li raggiunse più tardi desideroso di dare il suo aiuto ma non ne avevano alcun bisogno e invece già cominciavano a preoccuparsi per lui sedettero e pensarono a prendere il miglior consiglio per il viaggio e medea venne a partecipare ai loro discorsi peleo primo fra tutti disse queste parole penso che dobbiamo imbarcarci subito mentre è ancora notte all'opposto di dove i nemici sorvegliano all'alba quando sapranno ogni cosa non credo che si troveranno concordi che si persuadano ad inseguirci più oltre senza più il loro capo saranno divisi da aspre contese e si dividono allora sarà facile per noi la riva quando ritorneremo così disse e i giovani approvarono il figlio di eaco salirono subito in nave e fecero forza sui remi senza tregua finché arrivarono all'isola sacra di elettride ultima fra tutte accanto al corso dell'eridano quando i colchi si accorsero della morte del loro signore si lanciarono per tutto quanto il mare cronio alla ricerca di argo e dei mini ma li trattenne era scagliando terribili lampi dal cielo alla fine ripudiarono le loro case in terra citea temendo l'ira selvaggia del loro signore e stabilirono la propria dimora in quei luoghi sbarcarono chi qua chi là nelle medesime isole degli eroi e ancora vi abitano e portano il nome di assirto altri sulle rive del nero profondo fiume di liria dove la tomba di cadmo è armonia e vi costruirono una fortezza nel paese degli enchelei altri ancora vivono sulle montagne che sono dette ceraunie i monti del fulmine dal momento in cui le folgore di zeus il figlio di crono impedirono loro di passare nell'isola che sta di fronte gli eroi quando il ritorno parve senza pericoli procedettero innanzi e gettarono a terra le gomene nel paese degli illei sporgevano fitte le isole lasciando ai naviganti in mezzo un passaggio rischioso gli illei non erano più come prima nemici anzi facilitarono loro la strada e ne ebbero ricompensa il grande tripode di febo a pollo il dio aveva donato due tripodi a giasone da portare lontano nel viaggio che gli veniva imposto di compiere quando si recò a pito sacra per consultarlo sulla navigazione era destinato che la terra dove fossero stati non sarebbe mai stata distrutta da armi nemiche e per questo motivo ancora oggi il tripode è nascosto profondamente fissato nel suolo presso la bella città degli illei invisibile agli uomini là non trovarono ancora in vita il re illo che la bella melite partoria d'eracle in terra feacia eracle giunse infatti alla corte di nausito e presso macride la nutrice di dioniso per purificarsi dell'uccisione orrenda dei figli e si innamorò di melite figlia del fiume egeo e la possedette ed essa diede alla luce il fortissimo illo quando fu cresciuto non volle più vivere nell'isola sottomesso allo sguardo del re nausito ed andò nel mare di crono con un gruppo di nativi feaci che aveva raccolto lo stesso sovrano dispose il suo viaggio si stabilì colà e lo uccisero i mentori mentre cercava di difendere le sue mandrie nei campi ma ditemi muse perché al di là del mare attorno alla terra usonia alle isole ligustidi cui danno il nome di stecadi restano in gran numero e chiari i segni di argo quale necessità o bisogno li portò tanto lontano quali venti li condussero verso quei luoghi ucciso assirto un'ira terribile prese zeus il re degli dèi così avevano fatto e decretò che soltanto dopo essersi purificati del sangue maledetto per mano di circe ed aver sofferto innumerevoli pene soltanto allora avrebbero avuto il ritorno ma nessuno di loro lo seppe correvano via dalla terra il lea e si lasciavano dietro tutte le isole liburnie già occupate dai colchi l'una di seguito all'altra issa e di scedalo e la bella pitea dopo di esse arrivarono a corcira dove il dio posidone collocò la figlia di asopo corcira dai bei capelli che per amore aveva rapito dalla città di fliunte e i marinai che da lontano sul mare la vedono annerita da tutte le parti da una buia foresta la chiamano corcira nera poi costeggiarono melite godendo di un vento leggero e l'alta cerosso e più lontano ninfea là dove viveva la figlia di atalante la potente calipso e già sembrava loro di scorgere dentro la nebbia i monti cerauni quando era compresa i disegni di zeus e la sua collera immensa preoccupata per il compimento del viaggio suscitò le tempeste contro di loro e in preda a quelle furono ancora portati alla rocciosa isola elettride qui all'improvviso mentre avanzavano parlò con voce umana un legno della concava nave che palla di atena ricavò da una quercia a dodona e lo collocò nel mezzo della carena un terrore angoscioso li prese nell'udire la voce e la grande ira di zeus la voce diceva che non sarebbero mai sfuggiti alle pene del mare infinito né alle tempeste terribili se circe non li purificava dalla feroce uccisione di assirto a castore e polluce ordinava di supplicare gli dèi immortali che aprissero loro la strada del mare ausonio dove dovevano trovare la maga circe figlia di perse e del sole così gridò argo quando calava la sera i tindaridi si alzarono in piedi estendendo le mani agli dèi immortali pronunciarono la preghiera punto per punto ma l'abbattimento prese gli altri mini la nave era corsa lontano a vela entrarono profondamente nel corso del fiume eridano là dove un tempo fetonte colpito al cuore dal fulmine ardente e bruciato a metà cadde dal carro del sole nelle acque di questa profonda palude ed essa ancora oggi esala dalla ferita bruciante un tremendo vapore nessun uccello può sorvolare quelle acque spiegando le ali leggere ma spezza il suo volo e piomba in mezzo alle fiamme intorno le giovani eliadi infelici puntate negli alti pioppi e fondono tristi lamenti e dai loro occhi versano al suolo le gocce d'ambra splendente le gocce si asciugano sopra la sabbia ai raggi del sole e quando le acque della nera palude tracimano a riva sotto il soffio sonoro del vento rotolano tutte insieme verso l'eridano e i suoi flutti agitati i scelti hanno inventato una storia che sono le lacrime del dio apollo il figlio di leto a formare i vortici lacrime sparse un tempo infinite quando giunse al popolo sacro degli iperborei e lasciò il cielo splendente per le minacce del padre tirato a causa del figlio che gli partorì coronide quella splendida lacerea presso le rive del fiume a miro questo è ciò che si racconta tra quegli uomini gli eroi non avevano voglia di bere né di mangiare la loro mente non andava ai piaceri durante il giorno giacevano affranti sfiniti dall'odore cattivo che mandavano le correnti dell'eridano dal corpo liarso di fetonte intollerabile e poi la notte sentivano i gemiti acuti il triste lamento delle eliadi e le lacrime delle eliadi correvano sopra le acque come fossero gocce di olio di là entrarono nel profondo corso del rodano e si getta nel ridano e nel confluire le acque rimbombano ribollono questo fiume nasce dagli estremi confini del mondo dove sono le porte e le sedi della notte e di là si riversa da un lato alle coste d'oceano da un altro nel mare ionio da un altro ancora nel mare sardo nel suo golfo immenso con sette bocche usciti dal fiume avanzarono nei laghi tempestosi e si stendono all'infinito per le terre dei celti qui avrebbero avuto una sorte infelice c'è che uno dei bracci portava in un golfo d'oceano e senza saperlo stavano per entrarvi e non ne sarebbero usciti a salvamento ma era scesa dal cielo gridò dalla rupe arcinia tutti furono scossi dal terrore a quel grido il grande etere ebbe un tremendo rimbombo per ordine della dea tornarono indietro e capirono qual era la via per la quale si apriva loro il ritorno dopo un lungo cammino giunsero alle rive del mare passando in columi per volere di era passando in columi per volere di era in mezzo ai mille popoli dei celti e dei liguri la dea aveva diffuso attorno a loro una grande nebbia per tutti i giorni del viaggio passarono con la nave attraverso la bocca centrale e sparcarono alle isole stecadi salvi grazie all'aiuto dei figli di zeus perciò dedicarono ad essi altari e sacrifici che hanno valore per sempre né questo solo viaggio seguirono benevolmente ma zeus affidò loro anche le navi dei posteri lasciate poi le stecadi passarono all'isola italia dove sfiniti detersero il copioso sudore con delle pietruzze molto simili ci sono ancora su quella spiaggia così pure i dischi e altri resti illustri dei mini là dove il porto ha preso il nome di argo rapidamente avanzarono sulle acque del mare a usonio e furono in vista delle coste tirreniche giunsero poi al porto di eea e gettarono a terra le gomene qui trovarono circe che purificava il capo con l'acqua marina a tal punto era stata sconvolta dai sogni notturni era parso che tutti i muri e le stanze della sua casa grondassero sangue e le fiamme ingottivano i filtri coi quali prima incantava ogni straniero che veniva da lei e lei stessa con le mani attingeva a quel sangue e spegneva le fiamme così cessò il terrore mortale perciò al risveglio al sorgere dell'aurora essa lavava i capelli e le vesti nel mare e con lei mostri non simili a fiere selvagge e neanche ad uomini misti di membra diverse venivano in massa così come un greggio di pecore lascia le stalle tenendo dietro al pastore già in passato la terra aveva fatto fiorire dal fango esseri come questi fatti di membra con miste quando ancora non era condensata dall'aria secca e non le aveva ancora tolto l'umido i raggi prosciuganti del sole poi mise ordine il tempo distribuendoli in specie ma allora avevano forma indicibile ai mostri che la seguivano e uno stupore grandissimo prese gli eroi subito ognuno di loro guardando negli occhi e nella figura di circe capì facilmente che era sorella dieta quando ebbe cacciato i timori del sogno notturno tornò subito indietro e ordinò di seguirla con un gesto affettuoso ma pensava all'inganno lo stuolo d'eroe rimase lì fermo indifferente per ordine di giasone che prese con sé la fanciulla di colchide entrambi seguirono circe per la sua strada finché giunsero alla casa allora li fece sedere su ricchi seggi e si chiedeva il perché della loro venuta muti senza parole si slanciarono sul focolare e vi sedettero come costume dei miserabili supplici lei poggiava la fronte su ambo le mani e giasone piantò per terra la grande spada che aveva ucciso il figlio di età né l'uno né l'altra osava alzare gli occhi circe comprese la loro sorte di esuli e l'orrendo delitto perciò rispettando la legge di zeus protettore dei supplici che colpisce gli assassini ma anche da loro soccorso compì sacrificio nel quale i colpevoli supplici sono purificati quando si accostano al focolare in espiazione della morte irreparabile tenne alto sopra di loro un porcellino la madre aveva ancora le mammelle gonfie dal parto e gli tagliò il collo immerse le loro mani nel sangue e con libagioni e con preghiere placò zeus il dio che purifica che soccorre gli omicidi che rispetta le suppliche i rifiuti le portarono fuori di casa le ancelle naiadi che la servivano in tutto ed essa intanto bruciava accanto al focolare focacce e libagioni senza vino pregando che le terribili erinni smettessero la loro collera e zeus stesso potesse sorridere ed essere benigno ai due supplici fossero le loro mani macchiate di sangue straniero o di parenti quando ebbe compiuto ogni cosa li fece alzare e sedere su seggi ben levigati e sedette essa stessa vicino in faccia a loro subito li interrogava punto per punto sui motivi del loro viaggio da dove e perché venivano sulla terra e alla sua casa e si accostavano al focolare il ricordo del sogno si insimava atroce nel suo cuore sconvolto e desiderava sentire dalla fanciulla la voce del suo paese da quando la vide alzare lo sguardo da terra la stirpe del sole si riconosceva ben chiara dal lampo degli occhi che tutti loro mandavano lontano e brillava come la luce dell'oro alle domande la figlia del terribile eta raccontò tutto parlando suavemente la lingua dei colchi il viaggio la strada percorsa dagli eroi e quanto soffrirono nelle aspre prove e come per le ansie di sua sorella aveva commesso la colpa e come quei figli di frisso fuggì lontano dal feroce terrore del padre tacque l'uccisione di assirto che pure non restò nascosta alla mente di circe ma tuttavia ebbe pietà del suo pianto e le disse sciagurata un viaggio funesto e vergognoso è quello che hai intrapreso e non credo che sfuggirai lungo tempo all'ira di eta verrà anche in terra di grecia presto per vendicare la morte del figlio hai compiuto un'azione orribile ma poiché vieni da me mia supplice e mia parente non ti farò nessun altro male ma vattene da questa casa insieme allo straniero che hai scelto contro la volontà di tuo padre e non abbracciarmi i ginocchi accanto al focolare io non approvo le tue decisioni e la tua disonorevole fuga così disse un tremendo dolore prese medea sollevò il peplo sugli occhi e piangeva finché l'eroe la prese per mano e la condusse fuori scossa dallo sgomento in questo modo lasciarono la dimora di circe ma non sfuggirono alla sposa di zeus già che iride glielo disse quando li vide lasciare la sala la dea aveva ordinato di sorvegliarli nel ritorno verso la nave e le diede questi altri comandi iride cara se mai in passato hai eseguito i miei ordini orsù corri da teti con le rapide ali dille che esca dal mare e si presenti da me ho bisogno di lei poi recati subito sulle rive dove i duri martelli di efesto battono sulle incudini e digli di addormentare i soffi del fuoco fino a che argo non abbia attraversato quel luogo poi vada eolo eolo il signore dei venti nati dall'etere e anche lui di la mia volontà che si arrestino tutti i venti dell'aria e che nessuna brezza perturbi il mare ma soffi il solo zefiro in che saranno giunti all'isola dei feaci la terra di alcino così disse subito iride balzava giù dall'olimpo e fendeva l'aria stendendo le ali leggere entrò nel mare eseo dove sono le case di nereo e subito andò da teti e le parlò secondo il comando di era e le ingiunse di andare presto da lei poi si recò nell'officina di efesto e fece tacere i martelli di ferro e fermare i soffi ardenti di fuoco infine andò da eolo illustre figlio di ipota mentre anche a lui riferiva il messaggio di era e riposava i veloci ginocchi teti lasciava nereo e le sorelle e usciva dal mare per recarsi da era in olimpo la dea le fece sedere accanto a sé e le disse queste parole ascolta divina teti quello che voglio dirti sai quanta stima nutre il mio cuore per il figlio di esone e per gli altri che gli sono compagni in questa impresa io li ho salvati nel passaggio attraverso le plancte dove ruggono orrende tempeste di fuoco e i marosi schiumano sugli aspri scogli ma adesso li attende una strada tra la grande rupe di scilla e cariddi che manda uno spaventoso mugito ora quando eri bambina io t'ho educata e t'ho amata più di tutte le altre dè che vivono in mare perché non hai voluto l'amore di zeus che ti desiderava sempre gli interessano queste cose fare l'amore con donne non importa che siano dè o mortali ma tu per rispetto verso di me per timore gli sei sfuggita e allora giurò il giuramento più grande che non saresti mai stata la sposa di un immortale non smise però di spiarti contro tua voglia fino a quando la venerabile temi non gli disse ogni cosa era destino che tu avresti dato alla luce un figlio più forte del padre così rinunciò alle sue voglie temendo che un altro regnasse al suo posto sugli immortali e lui per sempre voleva proteggere il suo potere ma io ti ho dato per sposo il migliore degli uomini perché avessi nozze gradite e partorissi dei figli al banchetto ho invitato tutti gli dèi ed io stessa reggevo la fiaccola in ricompensa dell'onore e dell'affetto che mi avevi donato orsù ti voglio dire una parola infallibile quando tuo figlio arriverà ai campi elisi quello che ora allevano senza il tuo latte le ninfe naiadi presso il centauro chirone il suo destino è di sposare la figlia di eta medea e dunque soccorri tua nuora e anche peleo perché tanta ira tenace sì è stato cieco ma l'accecamento prende perfino gli dèi sono certo che per mio ordine efesto smetterà di ardere il fuoco e il figlio di pota eolo tratterrà i rapidi soffi dei venti eccetto il costante zefiro finché giungeranno ai porti feaci tu pensa a dare loro un viaggio sicuro il solo pericolo sono le rocce e gli immensi marosi che devi evitare assieme alle tue sorelle non lasciare che senza saperlo si gettino dentro a cariddi che li ingoierebbe li porterebbe via tutti quanti e neppure che passino accanto all'odioso antro di scilla la terribile scilla ausonia figlia di forco e della notturna ecade che chiamano anche crataide balzerebbe addosso a loro con le tremende macelle e ucciderebbe i migliori tieni tu dunque la nave dove si trova stretta la via di scampo alla morte così disse e a lei tetti rispose con queste parole se davvero si fermeranno la furia del fuoco vorace e le feroci tempeste allora posso essere certa di salvare la nave dall'assalto delle onde purché zefiro soffi lieve ma è tempo di mettersi in strada una strada lunghissima se devo andare a trovare le mie sorelle che mi verranno in aiuto e poi dove argo è ormeggiata perché all'alba riprendano il loro viaggio disse e balzò giù dal cielo nei vortici del mare azzurro chiamò le sorelle in aiuto le figlie di nereo udirono la sua voce e si radunarono tetti riferì gli ordini di era e le mandò tutte nel mare ausonio lei stessa più rapida del baleno del raggio di sole quando si leva sull'orizzonte si slanciò in mezzo alle acque finché fu giunta alla terra tirrena alla spiaggia di ea li trovò accanto alla nave che si divertivano a lanciare il disco e le frecce e si fece loro vicino sfiorando la mano di peleo era pure il suo sposo senza che nessun altro potesse vederla si mostrò a lui solo e gli parlò in questo modo non restate più a lungo qui sulle coste tirreniche all'alba sciogliete le gomene della nave veloce obbedendo a era che veglia su voi per suo comando sono corsa in folla le ninfe nera edi e proteggeranno la nave attraverso le rupi che chiamano plankte è quello il cammino segnato ma tu non indicare la mia persona a nessuno quando mi vedrai giungere con le sorelle tienilo a mente e non irritarmi più di quanto hai fatto una volta senza riguardo disse e sparì invisibile negli abissi del mare lui lo prese un tremendo dolore non l'aveva più vista da quando una volta lasciò la sua casa e il suo letto irata per il glorioso achille che era ancora bambino essa bruciava alla fiamma del fuoco le carni mortali in piena notte poi durante il giorno ungeva d'ambrosia il tenero corpo perché divenisse immortale e gli stesse lontana l'odiosa vecchiaia ma peleo balzato dal letto vide suo figlio agitarsi in mezzo alle fiamme e mandò un grido terribile a quella vista sciocco sciocco davvero uditolo tetti gettò di colpa per terra il bambino piangente e simile a un soffio o a un sogno lasciò veloce la casa e si immerse nel mare adirata né più da allora tornò sui suoi passi lo sconforto gli legò il cuore ma non di meno disse ai compagni tutti i comandi di lei allora subito gli eroi interruppero i loro giochi e si prepararono il pasto e il letto dove dormirono dopo aver mangiato come erano usi quando l'aurora che porta la luce toccò l'orizzonte e su di loro scendeva lieve il soffio di zefiro salirono sopra i banchi e tirarono le ancore lietamente dal fondo del mare e arrotolarono insieme gli attrezzi secondo il bisogno elevarono in alto la vela e con le scotte la tesero all'albero un vento propizio spingeva la nave e ben presto furono in vista di antemo essa l'isola bella dove le melodiose sirene figlie di a chelò incantano e uccidono col loro canto soave chiunque vi approdi e partoria dal chelò la bella tersicore una musa un tempo servivano la grande figlia di deo quando ancora era vergine e cantavano insieme ma ora sembravano in parte uccelli in parte giovani donne e stando sempre in agguato al di sopra del porto tolsero a molti consumandoli nel languore il dolce ritorno e anche per loro senza esitare mandavano l'incantevole voce e quelli già stavano per gettare a terra le gomene se il figlio di eagro il traccio orfeo non avesse teso nelle sue mani la cetra bistonica e intonato un canto vivace con rapido ritmo in modo che le loro orecchie rimbombassero di quel rumore e la cetra ebbe la meglio sulla voce delle fanciulle zefiro e l'onda sonora che spingeva da poppa portavano avanti la nave e le sirene mandavano suoni indistinti ma anche così uno di loro il nobile figlio di teleonte bute fu lesto a saltare in acqua dal banco preso dalla voce suave delle sirene e nuotava attraverso le onde agitate per giungere a riva infelice subito le sirene gli avrebbero tolto il ritorno ma afrodite la dea protettrice di erice ebbe pietà gli venne incontro benigna lo salvò strappandolo ai gorghi e gli assegnò il promontorio del lilibeo per dimora gli eroi si allontanarono afflitti ma altre cose più dure li aspettavano altre minacce alla nave sul quadrivio del mare da un lato sporgeva lo scoglio liscio di scilla dall'altro rumoreggiava cariddi con scrosci infiniti dove rugivano sotto gli enormi marosi le plancte e là dove prima era scaturita la fiamma dalla cima degli scogli sopra la roccia infuocata l'aria era scura dal fumo e non si vedevano i raggi del sole e anche allora sebbene efesto avesse smesso il lavoro il mare esalava un caldo vapore da tutte le parti arrivavano le nereidi e la divina teti da dietro prese il timone per guidare la nave in mezzo alle plancte come quando nel tempo sereno i delfini girano in branco attorno a una nave in cammino e si mostrano ora davanti ora di dietro di fianco e allietano i marinai così le ninfe correndo giravano in folla attorno ad argo e teti dirigeva la rotta quando già stavano per toccare le plancte alzarono sulle bianche ginocchia le vesti e dividendosi dall'una parte e dall'altra balzarono sopra le rocce e sulla cresta dell'onda la corrente investiva argo di fianco e attorno ai violenti marosi levandosi in alto si intrangevano contro le rupi ed esse ora si inalzavano al cielo come montagne ora stavano giù sommerse dentro il profondo e si stendeva su loro l'enorme onda selvaggia come fanciulle che sulla riva del mare con le tuniche avvolte sui fianchi giocano a palla e la risevano l'una dall'altra e la mandano in alto senza toccare mai terra a questo modo ora l'una ora l'altra spingevano in corsa la nave alta sopra le onde e sempre lontana dalle terribili rupi attorno a loro ribollivano l'onda emuggendo anche il dio Efesto stava ritto in piedi a guardare dall'alto della montagna scoscesa appoggiando la spalla robusta sul manico del martello e dal cielo lucente anche la sposa di Zeus abbracciata ad Atena tale fu il terrore che a quella vista la colse di quanto tempo s'allunga la giornata di primavera altrettanto le ninfe faticarono a far uscire la nave dalle rupi poi ebbe vento propizio e corsa in avanti presto costeggiarono i prati della trinacria dove sono allevate le vacche del sole le figlie di Nereo compiuti i comandi di Hera si immersero nel profondo come gabbiani giungeva per l'aria il belato delle pecore e insieme colpivano le orecchie dei naviganti i muggiti portava le pecore al pascolo sui prati umidi per la rugiada Faetusa la più giovane tra le figlie del sole che nella mano teneva una verga d'argento l'ampezia scuoteva dietro le mandrie un bastone d'oricalco splendente le videro pascolare presso le acque del fiume nei prati e nella piana paludosa nessuna di loro era di pelo nero tutte candide come il latte portavano corna d'oro superbe durante il giorno costeggiarono l'isola poi durante la notte navigarono a largo lieti fino a quando l'aurola sorgendo al mattino ridiede la luce ai naviganti c'è davanti allo stretto Ionio in mezzo al mare Ceraunio un'isola vasta e feconda dove si dice è interrata la falce perdonatemi muse malvolentieri riporto il racconto degli antichi con la quale Crono precise i genitali del padre spietatamente invece altri dicono che con quella falce Deo la dea della terra mieteva il raccolto Deo abitava in quei luoghi insegnò ai titani a cogliere la ricca messe del frumento per questo motivo porta il nome di Drepane che significa falce la sacra terra dei feaci e i feaci stessi sono del sangue d'urano presso di loro Argo trattenuta dai molti disagi arrivò finalmente spinta dai venti sul mare della Trinacria il re Alcino e il suo popolo li accolsero amichevolmente con sacrifici e per loro la città tutta si diede alla gioia avresti detto che facevano festa per i loro figli ed anche gli eroi erano lieti in mezzo alla folla come fossero giunti nel cuore della tessaglia eppure dovettero prepararsi a combattere perché apparve vicino un immenso esercito erano i colchi che alla caccia degli eroi avevano attraversato le bocche del ponto e le rupi simplegadi e venivano a chiedere senza indugi Medea per riportarla al padre o avrebbero dato battaglia sanguinosa implacabile adesso e poi ancora più tardi all'arrivo di Aeta ma pure bramosi di guerra come erano il re Alcino li trattenne voleva tra le due parti sciogliere senza guerra la dura contesa ma la fanciulla in preda a un disperato terrore spesso tornava a pregare i compagni di Giasone e spesso abbracciava i ginocchi di Arete la sposa di Alcino regina ti supplico abbi pietà di me non mi consegnare ai colchi che mi riportino da mio padre se tu pure appartieni alla stirpe degli uomini che hanno una mente che corre veloce alla rovina per leggerezza ed errore anch'io per questo sono caduta non per lussuria mi sia testimone la sacra luce del sole e i misteri notturni di Ecate che non per mio volere sono partita di là assieme a quegli stranieri un'atroce paura mi ha persuasa questa fuga quando avevo sbagliato e non c'era più altro rimedio ma ancora resta intatta inviolata la mia cintura come era in casa del padre abbi pietà di me mia signora e persuadi il tuo sposo possano darti gli dei mortali una lunga vita e gioia e figli e la gloria di un regno invincibile così supplicava la regina rete piangendo e poi uno per uno così pregava gli eroi per causa vostra grandissimi eroi e per causa delle vostre imprese io sono in preda all'angoscia fu per opera mia che avete aggiogato ai tori e mi è tutto la terribile messe degli uomini nati dal suolo e per opera mia tornerete presto in tessaglia col vello d'oro ma io ho perduto i genitori e la patria e la casa e tutta la gioia della mia vita io che a voi ho ridato la patria e la casa voi rivedrete con la dolcezza degli occhi i genitori a me un destino crudele ha tolto la gioia e vado errando odiata in compagnia di stranieri abbiate timore dei patti e dei giuramenti e delle rinni dei supplici e della giustizia divina se cadrò nelle mani di eeta e avrò morte oltraggiosa e tremenda non guardo a templi a fortezze che mi difendano a nessun altro che a voi sagurati crudeli senza pietà nel vostro cuore non avete vergogna a vedermi tendere disperata le mani alle ginocchia di una regina straniera però per prendere il vello eravate pure disposti a combattere contro i colchi contro lo stesso possente eeta ed ora avete scordato il vostro coraggio ora che sono pochi e isolati così pregava e tutti uno per uno la confortavano e cercavano di calmare il suo dolore prendendo le lance a guzze e sguainando le lance dal fodero promisero che non le avrebbero fatto mancare il loro aiuto se avesse subito un'ingiusta sentenza mentre lei si struggeva su di loro discese la notte pacificatrice ed addormentava tutta la terra ma lei neppure un momento la prese il sonno sagitava nel petto il cuore sconvolto come quando una povera donna fa girare il fuso di notte lei è morto il marito e attorno piangono i figli orfani e le lacrime colano per le guance pensando alla sua sorte infelice così le guance di medea si bagnavano e il cuore si torceva trafitto dalle ocultissime pene intanto in città stando come sempre nella loro casa il re alcino ed arete la sua venerata consorte si consultavano attorno a medea a letto durante la notte e la regina arete pregava così il suo sposo con calde parole sì mio caro ti prego difendi dai colchi la sventurata fanciulla fa cosa gradita ai mini la città di argo e i tessali sono vicini alla nostra isola mentre eta è lontano neppure la conosciamo solo ne abbiamo sentito parlare infelice medea mi ha spezzato il cuore con le sue suppliche non consegnarla signore ai colchi che la riportino al padre ha sbagliato quando ha dato a giasone il filtro per i tori e come spesso facciamo nei nostri sbagli ha voluto sanare un male con un altro male ed è fuggita dall'ira pesante del suo terribile padre ma a quel che so giasone è impegnato coi giuramenti più grandi a prenderlo nella sua casa come sposa legittima perciò mio caro non essere tu di tua volontà a fare spergiuro il figlio di esone e non permettere che abbandonandosi all'ira un padre colpisca orribilmente la figlia verso le figlie i padri sono troppo severi come lo fu nitteo con la bella antiope o come danae che per la ferocia del padre soffrì tante pene sul mare poco fa non lontano il superbo echeto fece piantare aghi di bronzo negli occhi della figlia e ora la consuma un triste destino in un carcere oscuro macinando grani di bronzo così diceva e pregava il re fu commosso dalle sue parole e le diede questa risposta ben volentieri a rete scaccierei con le eroi per la fanciulla ma temo di violare la retta giustizia di zeus e non è utile trascurare eta come tu suggerisci nessuno è più regale di eta e se volesse per quanto lontano sia potrebbe muovere guerra alla grecia ho deciso di fare giustizia nel modo che appaia il migliore e non te lo voglio tenere nascosto se medea è ancora vergine la farò riportare al suo padre ma se divide il letto di giasone non la strapperò al marito non darò ai suoi nemici il bambino che custodisce forse nel grembo così disse e subito il sonno lo prese ma la regina accolse dentro di sé la savvia parola e escesse dal letto per la casa accorsero tutte insieme le ancelle al servizio della loro signora in segreto mandò il suo araldo per dare a giasone il consiglio di unirsi con la fanciulla e non pregare il re alcino lui stesso sarebbe andato dai colchi a pronunciare il giudizio se medea era vergine gliel'avrebbe data da riportare ad eta ma se invece già divideva il letto di giasone non avrebbe spezzato un'unione legittima così disse e l'araldo lasciò immediatamente il palazzo per portare a giasone le fauste parole di arete la pia decisione di alcino li trovò che stavano accanto alla nave e la vegliavano in armi nel porto di illo nei pressi della città e riferì l'ambasciata gli eroi furono lieti il discorso era loro gradito subito mescolarono il vino in un cratere in onore degli dei e secondo il rito e pianamente portarono all'altare le pecore e in quella notte medesima prepararono per la fanciulla il letto nuziale nell'antro divino dove viveva un tempo macride la figlia del saggio aristeo che scoperse il lavoro delle api e il succo d'olivo all'inizio macride accolse in seno nell'eubea degli abanti dioniso il figlio di zeus e gli unse di miele le aride labbra dopo che ermes l'aveva strappato al fuoco ma era la vide e la scacciò incollerita da tutta l'isola andò ad abitare lontano nel sacro antrofeacio e diede immensa prosperità agli abitanti del luogo qui stesero il grande letto e sopra gettarono il vello d'oro fulgente perché le nozze fossero onorate e cantate nel candido seno le ninfe portavano mazzi variopinti di fiori le circondava tutte come una luce di fuoco tale era il lampo che si irradiava dai bioccoli d'oro un dolce desiderio brillava nei loro occhi ma la vergogna trattenne tutte per quanto volessero mettervi sopra le mani alcuna erano figlie del fiume egeo altre vivevano sopra le cime del meliteo ed altre nei boschi della pianura era stessa la sposa di zeus le aveva chiamate in onore di giasone ed ancora oggi si dà il nome di medea a quella grotta dove le ninfe celebrarono la loro unione stendendo veli fragranti gli eroi nel frattempo tenendo in mano le lance che lo stuolo nemico non piombasse su loro all'improvviso assaltandoli e con la testa coronata di rami fronzuti cantavano l'imeneo davanti alla soglia seguendo il dolce suono della cetra d'orfeo non nella terra dal cino desiderava celebrare le nozze l'eroe figlio di esone ma quando fosse tornato a iolco nella casa del padre e così anche medea il bisogno gli spinse ad unirsi in quel momento ma noi stirpe infelice degli uomini non possiamo entrare nella gioia con piede sicuro sempre l'amaro dolore si insinua in mezzo ai momenti del nostro piacere e così anche loro pure godendo del dolcissimo amore la paura li possedeva temendo che non si compisse il giudizio di alcino l'aurora sorgendo scioglieva con la sua luce immortale la nera notte nell'aria le rive dell'isola ridevano e anche i rugiadosi sentieri lontano dalla pianura il rumore riempiva le strade e gli abitanti si muovevano per la città i colchi in lontananza all'estremo della penisola di macride subito alcino secondo i patti andò a riferire la sua decisione circa la sorte della fanciulla teneva in mano lo scettro d'oro di giudice sotto il quale il suo popolo teneva rette sentenze insieme a lui marciavano in fila vestendo le armi di guerra i più illustri fra tutti i feaci dalle mura uscivano in folla le donne per vedere gli eroi e con loro andavano i contadini che sapevano tutto era aveva diffuso la notizia veridica chi portava un agnello scelto chi una giovenca ancora immune dalla fatica chi collocava lì accanto anfore colme di vino e lontano saliva il fumo dei sacrifici le donne portavano come loro costume vesti ben lavorate gioielli d'oro ed altri ornamenti delle giovani spose stupivano a vedere l'aspetto e la bellezza dei nobili eroi e tra loro il figlio di eagro che percuoteva la terra col suo bel sandalo al ritmo del canto e della cetra sonora le ninfe tutte insieme ad ogni accenno alle nozze intonavano il dolce emeneo e talvolta cantavano sole formando volute di danza era in tuo onore poiché tu avevi messo nel cuore della regina l'idea di rivelare la saggia parola di alcino il re comebbe bandito i termini della retta sentenza e già la notizia del matrimonio s'era diffusa mantenne saldamente la propria parola e non lo colse il terrore dell'ira di età avevano già stabilito giuramenti inviolabili e quando i colchi compresero che chiedevano in vano il re ordinò loro di rispettare la legge ottenere lontano le navi dai porti di quella terra allora tremando per le minacce del loro sovrano chiesero d'essere accolti in amicizia abitarono a lungo nell'isola assieme ai feaci fino a quando i bacchiadi originali di efira la presero a loro sede ed essi allora passarono di fronte all'isola e di là avrebbero quindi raggiunto i monti cerauni dove sono gli amanti la terra dei nesti ed orico ma questo doveva avvenire nel lungo corso del tempo là ancora oggi ogni anno ricevono offerte gli altari che medea nel tempio di apollo pastore dedicò alle moire e alle ninfe alla loro partenza alcino odia dei loro moltissimi doni ospitali e molti arete e inoltre dodici ancelle come seguito per medea dal palazzo feacio il settimo giorno lasciarono drepane soffiava un forte vento all'alba nel cielo sereno e spinti dal soffio del vento correvano innanzi ma non era destino che gli eroi sbarcassero sulla terra di grecia prima ad aver penato gli estremi confini di libia già avevano oltrepassato il golfo di ambracia e avele spiegata il paese dei cureti e le echinadi e con esse una fila di piccole isole e la terra di pelope cominciava appena a mostrarsi allora una tremenda tempesta di borea li rapì e li portò verso il mare di libia per nove giorni e nove notti fino quando arrivarono profondamente dentro la sirte dove non c'era più ritorno per le navi forzate ad entrare dappertutto è pantano è un fondo di alghe su cui si riversa muta la schiuma del mare fino al cielo si stende la sabbia niente striscia o si leva in volo e lì la marea frequentemente l'onda rifluisce da terra e poi di nuovo ribolle con selvaggio furore contro le coste li spinse rapida dentro la rada solo il fondo della carena rimase nell'acqua saltarono dalla nave e il dolore riprese alla vista del cielo e dell'immenso dorso di terra simile al cielo che si stendeva all'infinito non c'era un ruscello non un sentiero e guardando lontano non una capanna e una calma quieta possedeva tutte le cose e l'uno con l'altro angosciati si domandavano che terra è questa dove ci hanno gettato le tempeste o se avessimo osato vincendo il maledetto timore rifare il cammino di prima attraverso le rupi e anche se fossimo andati contro il disegno di zeus meglio sarebbe stato morire facendo qualcosa di grande ora che fare se siamo costretti dai venti a restare qui e fosse anche per poco come la solitudine si stende lungo questa terra senza confini così dicevano il pilota anceo disperato si rivolse in questo modo ai compagni anche loro abbattuti siamo finiti in preda al destino più atroce e non c'è via di sfuggirgli ci aspettano in questo deserto le sofferenze più dure anche se il vento dovesse soffiare da terra per quanto riguardi il mare di tutte le parti non vedo che fango e l'onda corre a rompersi sulla candida sabbia da tempo la sacra nave sarebbe stata spezzata orribilmente lontano sul fondo se la marea venuta dal largo non la sollevava ma adesso la marea torna a rifluire nell'alto mare e qui scorre soltanto un'acqua non navigabile che copre appena la terra e io vi dico che la speranza di salpare e di ritornare è distrutta qualcun altro mostri la sua abilità e si dal timone se brama partire ma zeus dopo tutte le pene non vuole che venga il momento del nostro ritorno così disse piangendo e chi era esperto di mare consentiva con la sua angoscia si ghiacciò il cuore a tutti nel petto e sulle guance si stese il pallore come si aggirono gli uomini per città somiglianti a ombre prive di vita quando si aspetta la guerra o la peste e la bufera violenta che distrugge a migliaia le fatiche dei bovi o come quando da sé le statue grondano sangue e si crede udire muggiti nei templi il sole a mezzogiorno riporta dal cielo la notte e nell'aria appaiono gli astri lucenti così gli eroi vagavano sulla lunghissima riva e sopravvenne ben presto la fosca sera si abbracciarono pietosamente dicendosi addio in lacrime per andare a morire ciascuno sulla spiaggia da solo chi qua chi là andarono a scegliersi un posto e in questo modo con il capo avvolto nel mantello restarono tutta la notte e il mattino senza mangiare né bere aspettando l'orri da morte in disparte raccolte sotto alla figlia dieta le fanciulle piangevano e come abbandonati i caduti dal nido sopra la roccia gridano acutamente gli uccellini in plumi o come sul ciglio del bel fiume pattolo cantano i cigni e tutto attorno risuonano i prati rugiadosi le belle correnti così con i biondi capelli nella polvere tutta la notte esse gemevano il loro pietoso lamento e tutti in quel luogo avrebbero perso la vita i più grandi eroi senza gloria senza memoria tra gli uomini senza avere condotto a termine la loro impresa ma ebbero pietà di loro che si consumavano nella disperazione le eroine di libia che quando atena balzò splendente dal capo del padre vennero e la bagnarono nelle acque del lago tritone era mezzogiorno e i raggi acuti del sole bruciavano la libia quando esse furono accanto a giasone e dolcemente gli tolsero il mantello del capo lui stornò gli occhi da un'altra parte per rispetto alle idee ma esse si rivolsero all'eroe angosciato visibili a lui soltanto con queste dolci parole infelice perché farsi prendere tanto dalla disperazione sappiamo che siete andati alla conquista del vello d'oro sappiamo tutte le pene immense che avete sofferto vagabondando per terra e per mare noi siamo le idee solitarie parlanti le eroine figlie e protettrici della terra di libia non restare più a lungo a gemere sveglia i tuoi compagni quando anfitrite avrà sciolto il rapido carro di posidone allora pagate il vostro debito verso la madre per le pene sofferte portandovi tanto tempo nel ventre e in questo modo potrete ancora tornare alla sacra grecia così dissero e là dove erano scomparvero subito assieme alla voce il figlio di esone si guardò intorno si alzò a sedere per terra e parlò in questo modo siate propizie gloriosi idee del deserto ma sul ritorno non capisco la vostra parola pure radunerò i miei compagni e gliela riferirò ma se trovassimo un segno che ci guidi nel viaggio è migliore il pensiero di molti disse e balzato in piedi chiamò a gran voce i compagni nero di polvere come il leone che per la foresta ruggisce cercando la sua compagna e dalla voce possente risuonano in lontananza le valli dei monti rabbrividiscono per la paura i buoi al lavoro nei campi e anche i mandriani ma ad essi non fece paura la voce del loro compagno che cercava gli amici si radunarono intorno a lui a testa bassa e lui così tristi li fece sedere assieme alle donne vicino all'approdo di argo e disse loro ogni cosa ascoltatemi amici nella mia anguscia mi sono apparse tre idee vicino sulla mia testa come fanciulle coperte da pelli di capra che dall'alto del collo scendevano alla schiena e alle anche con mano leggera mi hanno scostato il mantello e mi hanno ordinato di alzarmi e di venire a chiamarvi dobbiamo rendere alla madre il giusto compenso per le pene sofferte portandoci tanto tempo nel ventre quando anfitrite abbia sciolto il rapido carro di posidone io non riesco a comprendere il vaticinio di sé esse hanno detto di essere le eroine figlie e protettrici della terra di libia e quanto abbiamo sofferto in passato per mare e per terra dicevano di conoscerlo punto per punto poi d'improvviso non le ho più viste in quel luogo una nebbia o una nube deve averle velate così disse e tutti quanti stupirono nell'ascolto e qui avvenne agli occhi dei mini il prodigio più grande dal mare a terra balzò un gigantesco cavallo mostruoso e levando in alto il collo con la criniera dorata scosse dalle sue membra i rivoli d'acqua salmastra e si lanciò nella corsa simile al soffio del vento subito peleo disse liatamente ai compagni adunati vi dico che è questo il carro di posidone che è stato ormai sciolto dalle mani della sua sposa e penso che nostra madre altri non sia che la nave essa ci ha tenuto sempre dentro il suo ventre e dunque geme per i dolorosi travagli solleviamola allora con forza tenace con spalle instancabili e trasportiamola nella terra sabbiosa dove il cavallo ha diretto i suoi passi non si immergerà nel deserto e le sue tracce ci guideranno nell'entroterra verso un golfo marino così disse e a tutti piacque il suo savio consiglio questo è il racconto delle muse e io lo canto servendo le muse ho udito una storia sicura che voi nobilissimi figli di re levaste in alto sulle vostre spalle con vigore e coraggio la nave e tutto ciò che era dentro e la portaste per 12 giorni e per 12 notti attraverso le dune deserte di libia ma le pene e le angosce che patirono fino al colmo nella loro fatica chi mai potrà raccontarle veramente erano di sangue immortale tanto grande fu il compito che la violenta necessità li costrinse ad assumersi lontano lontano sempre portando la nave entrarono lietamente nelle acque del lago tritonide e la deposero dalle solide spalle si lanciarono come cani rabbiosi a cercare una fonte perché sarà giunta l'alida sete alla fatica e al dolore ma non cercarono in vano arrivarono alla sacra pianura dove ancora il giorno prima il drago nato dalla terra ladone vegliava le mele d'oro nel regno di atlante e intorno le ninfe e speridi svolgevano il loro ufficio intonando un amabile canto ma il drago appena colpito da eracle era disteso presso il tronco di un melo e muoveva soltanto la punta della coda dalla testa alla nera spina dorsale giaceva senza respiro e dove le frecce avevano contaminato il suo sangue con la bile amara dell'itra di lerna le mosche si dissecavano sopra le piaghe putride là accanto le speridi gemmevano forte celando la testa bionda dentro le candide mani si avvicinarono inaspettati al loro arrivo impetuoso le ninfe divennero polvere e terra orfeo comprese il prodigio divino e a nome di tutti le pregò in questo modo siate propizie signore belle e benevole idee sia che voi siate nel numero delle idee celesti o delle idee sotterranee o ninfe abitatrici delle solitudini ninfe figlie del sacro oceano mostratevi a noi ed indicate alla nostra speranza un'acqua di roccia oppure una fonte divina che sgorghi da terra e possa placare la sete terribile ardente se mai torneremo navigando in terra di grecia a voi tra le prime offriremo innumerevoli doni e li bagioni e conviti in testimonianza del nostro affetto così dissero pregandole con voce chiara subito quelle ebbero compassione dei loro dolori e per prima cosa fecero crescere erbe dal suolo e al di sopra dell'erba fiorirono verso l'alto lunghi virgulti e infine alberi fioriti si levarono ritti sopra la terra e spera divenne un pioppo e riteide un olmo egle il sacro tronco di un salice ma da quegli alberi apparvero nuovamente come erano prima immenso prodigio ed egle rispose con dolci parole agli uomini ansiosi un grandissimo aiuto nelle vostre pene vi ha dato quel cane che venne ad uccidere il serpente custode e portò via le mele d'oro lasciandoci acerbo dolore sì è venuto da noi un uomo d'orrendo aspetto e violenza brillavano gli occhi sotto la fronte spietata terribile era vestito della pelle di un enorme leone selvaggia neppure conciata portava un robusto tronco d'olivo e un arco con le frecce uccise la belva anche lui che aveva percorso la strada a piedi era arso dalla sete e batteva a quei luoghi cercando l'acqua mai l'avrebbe trovata ma c'è una roccia presso il lago tritonide per suo pensiero per consiglio divino colpì in basso col piede l'acqua sgurgò in abbondanza allora poggiate per terra ambo le mani ed il petto beve senza fermarsi dalla roccia spaccata fino a quando saziò il ventre capace disteso come una vacca nel pascolo così dissero corsero subito lieti là dove egle aveva indicato la fonte agognata finché la trovarono come quando le operose formiche s'aggirono in massa attorno a un piccolo buco o come quando le mosche si precipitano insaziabili a frotta sopra una goccia di miele così tutti insieme gli eroi s'aggiravano attorno alla fonte rocciosa e qualcuno diceva contento con le labbra ancora umide ecco che anche lontano eracle ha salvato i compagni arsi di sete o se potessimo andare a cercarlo e ritrovarlo nel suo cammino attraverso questo paese disse e i compagni lo ascoltarono e quelli di loro che erano adatti si divisero andando chi qua chi là alla ricerca ma il vento notturno aveva sbosso la sabbia e cancellato le tracce partirono i figli di borea fidando nelle ali ed eufemo nei rapidi piedi e linceo che vedeva acuto e lontano e per quinto si mise in marcia con loro canto egli era spinto per questa strada dal destino divino e dal proprio coraggio voleva sapere da eracle dove aveva lasciato polifemo figlio di elato gli stava a cuore conoscere tutto sulla sorte del suo compagno ma quello dopo aver fondato un'illustre città della misia ansioso di compiere il viaggio andò alla ricerca di argo lungamente finché arrivò sul mare al paese dei calibri e qui il destino gli diede morte e gli innalzarono un tumulo sotto un grande pioppo poco lontano dal mare solo linceo credette di vedere eracle in lontananza nella terra sterminata come si scorge o pare di scorgere la luna annebbiata nel primo giorno del mese tornò dai compagni e disse loro che mai più nessuno degli uomini che cercavano eracle avrebbe potuto raggiungerlo tornarono anche il rapido eufemo e i due figli del trace borea dopo le vane fatiche ma te canto te le terribili care si presero in terra di libia incontrasti un greggio al pascolo e dietro al greggio il pastore e questi per le pecore che tu volevi portare ai compagni affamati ti uccise con un colpo di pietra che non era avversario da poco cafauro nipote di feboli coreo e di acacallide la pudica fanciulla che il padre minosse esiliò dalla libia incinta del dio e al dio essa diede un figlio glorioso chiamato amfitemide o garamante e da sua volta amfitemide si unì con una ninfa tritonide che gli portorì nasamone e il forte cafauro che uccise canto per difendere il greggio ma non sfuggì al duro braccio degli eroi quando seppero ciò che era accaduto presero il corpo che stava sfacendosi lo piansero e seppellirono e portarono con sé le pecore in quel giorno stesso il destino spietato si prese anche mopso figlio di ampico malgrado i suoi vaticini non scampò alla sorte funesta non c'è modo di evitare la morte sulla sabbia giaceva sfuggendo al calore del mezzogiorno un tremendo serpente ma pigro non voleva fare del male a chi non gliene faceva e neppure voleva attaccare chi fuggiva da lui ma una volta che il suo veleno toccasse una creatura vivente di quelle che nutre la terra feconda la strada dell'ade diveniva per essere più breve di un cubito neppure seppione se posso dirlo con tutta franchezza venisse a curarlo appena il serpente l'avesse toccato coi denti quando perseo simile a un dio o eurimedonte così lo chiamava la madre volò sulla libia per portare al re il capo appena tagliato della gorgone quante gocce del nero sangue raggiunsero il suolo tutte diedero vita alla stirpe di questi serpenti mopso mettendo avanti il piede sinistro gli urtò la coda sulla spina dorsale quello torcendosi per il dolore gli morse la carne tra tibia e muscolo medea tremò e assieme a lei le sue ancelle ma lui compresse arditamente il sangue della ferita che non gli dava un grande dolore infelice già sotto la pelle si insinuava il letargo mortale e fitta calava sopra i suoi occhi la nebbia subito senza speranza riclinò al suolo le membre pesanti e fu freddo attorno a lui si adunarono i compagni e il figlio di esone stupiti alla grave sventura morto neppure un momento doveva restare a giacere nel sole perché dentro il veleno sfaceva le carni e i peni marciti cadevano via dalla pelle subito con le vanghe di bronzo scavarono una fossa profonda si tagliarono essi e le donne i capelli piangendo il triste destino del morto e tre volte girarono in armi attorno al cadavere secondo il rito e lo coprirono sotto la terra poi salirono sulla nave giacché noto soffiava sul mare e cercavano di trovare una via per uscire dal lago tritonide ma non la trovarono e per tutto il giorno andavano avanti alla cieca come un serpente attorto avanza per un cammino sinuoso quando più acuti bruciano i raggi del sole e con un sibilo volge il capo di qua e di là e i suoi occhi lampeggiano furiosi come scintille di fuoco finché si infila in un buco per la fessura del suolo così la nave argo cercando un valico vagava per lungo tempo allora il figlio di eagro ordinò di portare fuori il grande tripode di febo apollo e offerlo in dono agli dei del luogo per un felice ritorno e così scesero a terra e vi collocarono il dono di apollo e venne loro incontro simile a un uomo nel fiore degli anni il forte tritone e prendendo da terra una zolla la offrì agli eroi come dono ospitale e parlò in questo modo accettatela amici qui non ho dono migliore da offrire ai miei ospiti se voi cercate un passaggio per questo mare così come spesso gli uomini che navigano in una terra straniera ve lo dirò me ne ha fatto esperto mio padre il dio posidone io regno sul lido e forse avete sentito parlare pur vivendo lontano di euripilo nato in libia nutrice di fiere disse e prontamente eufemo stese le mani alla zolla e rispose a sua volta queste parole eroe se tu conosci il peloponneso e il mare di creta rispondi il vero alle nostre domande non per nostro volere siamo venuti qui ma sospinti ai confini di questo paese dalle tempeste di borea abbiamo portato sulle spalle la nave attraverso il continente fino alle acque del lago siamo sfiniti e non sappiamo dov'è il passaggio alla terra di pelope così disse e tritone stese la mano e indicò loro in lontananza il mare e la bocca profonda del lago e si rivolse agli eroi in questo modo il passaggio è laggiù dove l'acqua è nera profonda ed immobile da ambo le parti si levano candidi e alti marosi in mezzo ad essi è uno stretto cammino che porta di fuori là oltre creta si stende il mare nebbioso fino alla terra di pelope ma quando dal lago sarete usciti nel mare dirigetevi a destra e tenetevi stretti alla terra finché risale poi quando piega dall'altra parte vi si apre un viaggio sicuro dopo che avrete passato il promontorio ma ora andate e siate pure tranquilli non c'è fatica che possa fiaccare membra floride di giovinezza così disse benigno e gli dei si imbarcarono subito desiderosi di uscire a forza di remi dal lago già si muovevano con ogni slancio quando tritone prese il grande tripode e parve immergersi nel lago più nessuno lo vide quando scomparve rapidamente insieme col tripode e il loro cuore fu lieto ad avere incontrato un dio benevolo e invitarono Giasone a sacrificargli la più bella pecora pregando e subito Giasone la scelse la sollevò stando a poppa e la sgozzò e al sacrificio aggiunse questa preghiera dio chiunque tu sia che ci sei apparso sulle rive del lago ti chiamino col nome di tritone prodigio marino o di forco o di nereo le figlie dell'acqua si propizio e dacci il ritorno che il nostro cuore desidera disse e pregando gettò alla poppa la bestia sgozzata allora il dio uscì dal profondo con la sua immagine vera e come un uomo guida un cavallo veloce nel vasto stadio tenendolo docile per la folta criniera e corre mentre il cavallo lo segue superbo sollevando la testa e tintinna il ferro lucente nella sua bocca quando lo addenta agli estremi così il dio prese al fondo la concava nave e la spinse avanti nel mare il suo corpo dall'alto capo lungo il dorso e suoi fianchi e fino al ventre era simile agli immortali nell'aspetto meraviglioso ma al di sotto dei fianchi si allungava una coda a due punte di mostro marino e colpiva la cima dell'acqua con le spine dorsali che in punta si dividevano in curvi uncini come le corne lunari portò la nave fino a spingerla sulla rotta del mare poi si inabissò nel profondo gli eroi gridarono vedendo compiersi coi propri occhi lo strano prodigio qui sta il porto di argo e della nave rimangono tracce qui sono gli altari di posidone e tritone poiché in quel giorno si fermarono là ma verso l'aurora corsero a vele spiegate al soffio di zefiro tenendo sempre sulla loro destra il deserto il mattino seguente giunsero a scorgere il capo e al di là del capo i recessi del mare all'improvviso zefiro cadde e sopravvenne il soffio di argeste gli eroi ne furono lieti ma al tramonto del sole quando spuntò la stella serale che porta il riposo ai contadini stanchi e il vento cadde nell'oscurità della notte allora ammainarono le vele e reclinarono l'albero e si piegarono con ogni forza sui remi e remarono per tutta la notte ed il giorno e ancora la notte seguente lontano li accolse la rocciosa carpato di là stavano per traversare a creta l'isola che più di tutte si trova al largo del mare ma talos l'uomo di bronzo scagliando pietre da una solida roccia impedì di gettare a terra le gomene quando furono giunti al porto di teo era questi il solo rimasto dei semidei della razza di bronzo che era nata dai frassini e zeus l'aveva dato ad europa come guardiano dell'isola che percorreva tre volte coi piedi di bronzo di bronzo infrancibile era tutto il suo corpo e le membra ma sulla caviglia al di sotto del tendine aveva una vena di sangue e la copriva una sottile membrana che era per lui vita e morte benché fossero sfiniti dalla fatica gli eroi spaventati allontanarono a forza di remi la nave dalla spiaggia dell'isola e certo miseramente sarebbero fuggiti soffrendo la sete e le pene ma al momento della partenza medea disse loro datemi ascolto io credo di potere da sola uccidervi quel uomo chiunque sia anche se il corpo di bronzo purché non abbia vita instancabile ma voi fermate la nave qui piano in modo che resti fuori dal tiro delle sue pietre finché mi abbia ceduto e io l'avrò vinto così disse e gli eroi remando portarono fuori tiro la nave aspettando quale piano segreto mettesse in opera e la tirò sulle gote da ambo le parti lembi del peplo purpureo e salì sul ponte la teneva per mano passando attraverso i banchi il figlio di esone qui invocò e si propiziò con gli incantesimi le care mortali le cagne veloci dell'ade che s'aggirono per tutto l'etere dando la caccia ai viventi tre volte le supplicò tre volte le evocò con gli incantesimi tre volte con le preghiere e creandosi un cuore malvagio ammaliò con occhi nemici gli occhi dell'uomo di bronzo e di grignando gli mandò contro bile malefica e orribili immagini nel suo tremendo furore Zeus padre un grande stupore invade il mio animo se la morte non giunge soltanto con le malattie e le ferite e qualcuno anche lontano può farci del male così come talos pur essendo di bronzo cedette al potere di medea signora dei filtri mentre alzava rocce pesanti per bloccare l'approdo urtò la caviglia su uno spuntone di pietra e colò licore simile a piombo fuso non fu più capace di reggersi in piedi sullo scoglio sporgente come un grandissimo pino in alto sui monti che i tagli a legna hanno lasciato reciso a metà dalle scure affilate scendendo dalla foresta e nella notte da prima i venti lo scuotono poi si stacca dal ceppo e precipita così per poco talos restò barcollante sui piedi infaticabili poi crollò senza forze con un immenso frastuono quella notte gli eroi dormirono a creta ma quando sorsero le prime luci dell'alba costruirono un tempio in onore di atena cretese fecero provvista d'acqua e si imbarcarono per doppiare al più presto a remi il capo salmonide mentre correvano il vasto mare di creta li spaventò la notte che il poeta dice funesta la notte tremenda che non penetravano gli astri nei raggi di luna un nero abisso caduto dal cielo o una tenebra sorta dai recessi profondi neppure sapevano se navigavano sopra le acque o nel regno dei morti ed affidavano al mare il loro ritorno disperati senza capire dove li stava portando ma giasone alzò le mani e invocò febo a gran voce chiedendogli di salvarli e piangeva angosciato promise che avrebbe portato innumerevoli doni ai santuari di pito di amicle di ortigia tu l'ascoltasti figlio di leto e scendesti dal cielo agli scogli melanzi che sorgono in questo mare e balzato alla cima di una delle rupi con la destra levasti in alto l'arco dorato che diffuse dovunque un chiarore fulgente apparve ai loro occhi una piccola isola delle sporadi poco distante dall'isoletta di puride gettarono qui le ancore e si fermarono presto l'aurora tornò a risplendere gli eroi consacrarono un bel santuario ad apollo nel bosco ombroso e un altare ombreggiato dando al dio il nome di eglete cioè luminoso il ricordo della luce che li aveva guidati l'isola impervia la chiamarono anafe o luogo d'apparizione perché apollo l'aveva mostrata a loro in mezzo all'angoscia fecero i sacrifici che si possono fare in una costa deserta ma le ancelle feace della figlia di età quando li videro livare acqua sopra i tizioni ardenti non trattennero il riso loro che spesso avevano visto nella regia di alcino sacrificare dei bovi gli eroi allegri per quello scherzo le rimbeccarono a male parole s'accesse tra loro un blando motteggio uno scherzoso litigio in memoria del gioco degli eroi ancora oggi le donne dell'isola scherzano allo stesso modo con gli uomini quando si compiono i sacrifici in onore di apollo eglete il protettore di anafe quando sciolsero di là le cime con un tempo tranquillo eufemo si ricordò di un sogno avuto di notte per rispetto del figlio illustre di maia gli era sembrato che la zolla divina che teneva sul seno si bagnasse di candide gocce di latte e dalla zolla pur così piccola ecco nasceva una donna una fanciulla ed egli si univa con lei colpito da desiderio grandissimo poi si pentiva come d'aver posseduto sua figlia nutrita con il suo latte ma essa lo confortava con queste dolci parole mio caro io sono nata da tritone e sono nutrice dei tuoi figli e non già tua figlia i miei genitori sono tritone e la libia tu lasciami con le nereidi a vivere in mare presso anafe verrò alla luce del sole più tardi e sarò pronta ad accogliere i tuoi discendenti eufemo si ricordò di questo in cuor suo e lo disse a giasone e lui richiamando alla mente i vaticini di apollo il dio signore dei dardi così gli rispose mio caro certo una grande splendida gloria ti tocca in sorte se c'è in mare la zolla gli dei ne faranno un'isola dove vivranno i tuoi nipoti più giovani già che tritone ti ha dato in dono ospitale questo pezzo di terra libica lui te l'ha data e nessun altro dio quando l'abbiamo incontrato così disse ed eufemo non trascurò la risposta del figlio di esone ma lieto del vaticinio scagliò nel profondo la zolla e sorse da questa l'isola detta calliste o bellissima sacra nutrice dei figli di eufemo essi prima abitarono l'emno la terra dei sinti poi quando i tirreni li ebbero espulsi da l'emno giunsero supplici a sparta più tardi lasciarono sparta e il nobile figlio di autesione terante li guidò verso calliste e l'isola prese un nuovo nome da te terante ma questo avvenne ben dopo i tempi di eufemo partiti di là attraversarono come volando il mare immenso e approdarono alla spiaggia di egina e qui nel fare provvista d'acqua si impegnarono in una gara leale chi primo lo attingeva la portava alla nave l'incalzavano insieme il bisogno e un vento impetuoso là ancora oggi caricandosi in spalla le anfore colme i figli dei mirmidoni si sfidano gli uni con gli altri nelle gare di corsa siate propizi eroi figli degli immortali e questo mio canto possa di anno in anno essere sempre più dolce agli uomini eccomi giunto al termine illustre delle vostre fatiche giacché nessun'altra vi toccò dopo che foste partiti da egina non sorse nessuna tempesta di vento tranquilli e sicuri costeggiaste la terra cecropia e quella di aulide di qua dell'eubea e le terre dei locresi o punzi e lietamente sbarcaste alla riva di pegase